E finalmente ci siamo, fine maggio e riparte il tradizionale appuntamento con il lunedì del parrucchiere una vera rubrica, un vero diario per noi fancazzisti ho scelto come location anche in questo 2021 il Paparazzi 242 di Milano Marittima devo dire ieri una grandissima sfilata di moda con ragazze meravigliose avete visto i video e ovviamente mi avete invidiato perché ero circondato da delle donne splendide oggi sono qua assolutamente da solo la prima sensazione con questo fine maggio che mi fa capire che l'emblema dell'estate 2021 è legato al sesso e mi dicono proprio che davvero il sesso allunghi la vita e se è così penso di avere le ore contate